La Locanda della Tormenta presenta Conan Ombre a Zambula Buon ascolto 1 Il pericolo si nasconde nella casa di Arambash! L'oratore parlava con voce ansiosa e le dita ricurve delle unghie nere si strinsero come artigli sul braccio muscoloso di Conan mentre gli forniva questo avvertimento con voce gracchiante era un uomo rugoso dalla pelle bruciata dal sole e dalla barba nera stopposa le vesti lacere tradivano la sua condizione di nomade sembrava più minuto e meschino che mai rispetto al gigante cimero dalle sopracciglia nere l'ampio torace e gli arti possenti si trovavano in un angolo del bazar dei fabbricanti di spade e accanto a loro da entrambi i lati fluiva la moltitudine colorata e poliglotta delle strade di Zambula esotica, eterogenea, sgargiante e rumorosa Conan distolse lo sguardo da una ganara dall'atteggiamento sfrontato e dalle labbra vermiglie la cui gonna dai molti spacchi scopriva le cosce abbronzate ad ogni passo sfrontato e si rivolse al suo importuno compagno cosa intendi dire con pericolo? domandò l'uomo del deserto si guardò furtivamente alle spalle prima di rispondere e abbassò la voce chi lo sa ma uomini del deserto e viandanti hanno dormito nella casa di Aram Butch e non si sono più visti e non se ne è più sentito parlare che cosa gli è successo? Butch ha giurato che si sono svegliati e se ne sono andati ed è vero che nessun abitante della città è mai scomparso dalla propria casa eppure nessuno ha più rivisto i viandanti e alcuni dicono che nei bazar sono stati visti beni ed equipaggiamenti riconosciuti come appartenenti a quelle persone se non l'ha venduta Aram dopo essersi sbarazzato dei suoi proprietari come ha fatto quella roba ad arrivare là? io non possiedo nulla grugni il cimmaro toccando l'elsa di zigrino della spada che gli pendeva dal fianco ho venduto persino il cavallo ma quelli che sono spariti di notte dalla casa di Aram Butch non sempre erano ricchi stranieri no erano poveri uomini del deserto che hanno solo dormito là perché la sua tariffa è inferiore a quelle delle altre taverne e non si sono mai più visti una volta un capo degli insuagiri che aveva perso il figlio in questo modo protestò con Jundir Khan il satrapo il quale allora ordinò la perquisizione della casa da parte dei soldati e trovarono una cantina piena di cadaveri? chiese Conan in tono beffardo no non trovarono nulla e allontanarono il capo dalla città minacciandolo e maledicendolo ma trovarono qualcos'altro al margine del deserto oltre le case c'è un gruppo di palme e nel palmetto c'è un pozzo dentro quel pozzo sono state trovate osso umane bruciacchiate e annerite non una ma molte molte e questo cosa prova grugni il cimbero che Arambach è un demonio in questa maledetta città costruita dagli stigiani e governata dagli ircaniani dove gente bianca bruna e nera si mescola per generare ibridi di ogni immonda razza e colore chi può dire quale di loro è umano e quale è un demonio mascherato Arambach è un demonio dall'aspetto umano di notte assume il suo vero aspetto e porta i suoi ospiti nel deserto dove i suoi amici demoni provenienti da luoghi sperduti si riuniscono in assemblea perché rapisce sempre gli stranieri? chiese Conan scettico la città non permetterebbe di vedere la sua gente uccisa da Bacch ma a loro non importa nulla degli stranieri che finiscono nelle sue mani Conan tu vieni dall'occidente e non conosci i segreti di questa terra antica ma fin dai primordi i demoni del deserto hanno venerato Yogg il signore delle dimore vuote con il fuoco un fuoco che divora le vittime umane sei avvisato hai dimorato per molte lune nelle tende degli zuagiri e ormai sei nostro fratello non andare nella casa di Arambach sparisci disse improvvisamente Conan sta arrivando una squadra della milizia cittadina se ti vedono possono ricordarsi che è stato rubato un cavallo dalla stalla del satrapo lo zuagiro gemette e si mosse convulsamente si abbassò tra una bancarella e un abbeveratoio di pietra indugiando il tempo necessario per dire attento fratello mio ci sono demoni nella casa di Arambach poi si infilò in uno stretto vicolo e scomparve Conan spostò il cinturone della spada in modo da averla portata di mano e ricambiò con tranquillità gli sguardi indagatori che la squadra di soldati gli rivolse mentre gli passavano accanto lo fissarono con sospetto e curiosità perché era un uomo che si distingueva anche in mezzo a una cozzaglia di persone come quella che affollava le tortuose strade di Zambula gli occhi blu e i tratti forestieri lo differenziavano dalla folla orientale e la spada portata diritta lungo il fianco accresceva la sua differenza razziale i miliziani non gli si avvicinarono ma proseguirono indolenti lungo la strada mentre la folla si apriva per dargli il passo erano tozzi pelishtim dal naso aquilino e la barba nero blu che scendeva fino al petto protetto dalla cotta di maglia erano mercenari assoldati per svolgere un lavoro che i dominatori turaniani consideravano indegno per se stessi e per questo motivo non erano meno odiati dalla popolazione eterogenea Conan fissò il sole che stava giusto cominciando a tramontare dietro le case dal tetto piatto a ovest del bazar e strattonando ancora una volta il cinturone si mosse in direzione della taverna di Arambach con l'andatura di un uomo delle montagne avanzava tra i colori cangianti delle strade dove le tuniche cenciose dei mendicanti lamentosi strusciavano contro i calat bordati di armellino dei nobili mercanti e il raso ornato di perle delle ricche cordigiane superò giganteschi schiavi neri dall'andatura di noccolata giocolieri vagabondi dalla barba blu provenienti dalle città scemitiche nomadi cenciosi dei deserti circostanti mercanti e avventurieri provenienti da tutte le terre dell'oriente la popolazione locale non era meno eterogenea qui secoli addietro erano giunti gli eserciti della stigia dando origine nel deserto orientale a un impero allora Zambula non era che una cittadina commerciale situata in mezzo a una zona circondata da oasi e abitata dai discendenti dei nomadi gli stigiani ne fecero una grande città e la occuparono con la loro gente e con schiavi scemiti e cusciti le carovane che passavano continuamente percorrendo il deserto da oriente a occidente e viceversa portarono ricchezze e incrementarono la promiscuità razziale poi da est a cavallo arrivarono i conquistatori turoniani che ricacciarono indietro i confini della stigia e ora da una generazione Zambula divenuta l'avamposto occidentale di Turan era governata da un satrapo turaniano la babele costituita da una miriade di lingue era un tormento per le orecchie del cimbero mentre l'incessante movimento lungo le strade di Zambula gli si agitava intorno interrotto di tanto in tanto da uno squadrone di cavalleggeri dalle armature tintinnanti erano gli alti e snelli guerrieri di Turan dagli scuri volti di falco dal metallo tichettante e dalle spade ricurve la folla sgattaiolava via dagli zoccoli dei cavalli perché quei cavalieri erano i signori di Zambula ma gli stigiani alti e tetri arretrando tra le ombre li fissavano tenebrosamente ricordando le loro antiche glorie a quella eterogenea popolazione importava poco se il re che la dominava dimorasse nella scura chemi o nella scintillante agrapur Jungir Khan governava Zambula e gli uomini mormoravano che Nefertari l'amante del satrapo governasse su di lui ma la gente pensava ai fatti propri ostentando la miriade di colori nelle strade barattando discutendo giocando d'azzardo tracannando vino facendo l'amore come la gente di Zambula aveva sempre fatto fin da quando le sue torri e i suoi minareti erano sorti dalle sabbie del Karamun prima che Conan giungesse alla casa di Arambach lungo le strade erano state accese lanterne di bronzo modellate come draghi irridenti la taverna era l'ultima casa occupata sulla via che conduceva a est un ampio giardino circondato da un muro dove crescevano fitte delle palme da dattero la separava dalle case più lontane a ovest della locanda si trovava un altro gruppo di palme attraverso il quale la strada ormai abbandonata la città si inoltrava sinuosamente nel deserto al di là della strada di fronte alla taverna e all'ombra delle palme sorgeva un gruppo di casupole abbandonate e abitate solamente da sciacalli e pipistrelli mentre Conan procedeva lungo la via si chiese perché i mercanti così numerosi a Zambula non avessero occupato quelle case vuote per dormirci le luci scomparvero a una certa distanza dietro di lui in quel punto non c'erano lanterne eccetto quella che penzolava di fronte all'ingresso della taverna c'erano solo le stelle la soffice polvere della strada sotto i suoi piedi e lo stormire delle foglie di palma nella brezza del deserto la porta della taverna di Aram non si apriva sulla strada ma su un viottolo tra la taverna e il giardino con le palme da dattero Conan tirò con forza la corda che pendeva dalla campana accanto alla lanterna aggiungendovi il rumore dei colpi dell'elsa della spada contro la porta di legno di Tec bordata di ferro nella porta si aprì uno sportellino da cui sbirciò un volto nero apri maledizione sono un ospite ho pagato ad Aram una stanza e l'avrò per crom il nero allungò il collo per osservare la strada illuminata dalle stelle dietro Conan ma aprì la porta senza parlare e poi la chiusa chiave sbarrandola dietro il cimbero il muro di cinta era insolitamente alto ma c'erano molti ladri a zambula e una casa al limitare del deserto doveva essere difesa dalle incursioni notturne dei nomadi Conan attraversò il giardino dove grandi fiori pallidi ondeggiavano alla luce delle stelle ed entrò nella mescita dove un ostigiano con la testa rasata come uno studente sedeva a un tavolo a meditare su misteri sconosciuti e alcuni tizi anonimi giocavano ad ad in un angolo Arambaks venne avanti con passo felpato era un uomo corpulento con una barba nera che gli copriva il petto un prominente naso aquilino e occhietti neri sempre in movimento desideri il cibo? da bere? ho mangiato un pezzo di carne e una pagnotta nel suc portami un boccale di vino di Gazan mi è rimasto giusto abbastanza per pagarlo buttò quindi una moneta di rame sulla tavola bagnata di vino non hai vinto al tavolo da gioco? e come avrei potuto con una sola manciata d'argento con cui cominciare ti ho pagato la stanza stamane perché sapevo che probabilmente avrei perso volevo essere sicuro di avere un tetto sopra la testa stanotte ho notato che nessuno dorme per le strade di Zambula perfino i mendicanti vanno a caccia di un buco in cui barricarsi prima che venga buio la città deve essere piena di una specie di ladri particolarmente sanguinaria Conan traccannò il vinello con avidità e poi seguì Aram fuori dalla mescita dietro di lui i giocatori smisero di giocare per fissarlo con un'espressione stranamente perplessa non dissero nulla ma lo stigiano rise una risata spettrale che rifletteva inumano cinismo e derisione gli altri abbassarono gli occhi a fatica ciascuno evitando lo sguardo dell'altro le arti studiate da un ostigiano non erano concepite per fargli condividere i sentimenti di un normale essere umano Conan seguì Aram lungo un corridoio illuminato da lampade di rame e fu colpito nel notare che l'oste camminava silenziosamente i piedi di Aram erano infilati in morbide babbucce e il corridoio era coperto da spessi tappeti turaniani ma attorno allo zambulano aleggiava una sgradevole atmosfera furtiva alla fine del corridoio serpeggiante Aram si fermò di fronte a una porta chiusa da una pesante sbarra di ferro poggiata su robusti sostegni di metallo la sollevò e mostrò al cimmero una camera dall'aspetto gradevole in cui Conan notò subito che le finestre erano piccole e solidamente chiuse da sbarre di ferro spiralate e decorate piacevolmente sul pavimento erano stesi dei tappeti e l'arredo era costituito da un divano di stile orientale e seggiole ornate era una stanza molto più lussuosa di quella che Conan avrebbe potuto permettersi con lo stesso denaro in un posto più vicino alla città un fatto che aveva attirato la sua attenzione quella mattina quando per la prima volta si era reso conto di quanto le gozzoviglie dei giorni precedenti avessero alleggerito la sua borsa era arrivato a cavallo a Zambula dal deserto solo la settimana prima Aram aveva acceso un lume di bronzo e aveva richiamato l'attenzione di Conan sulle due porte e entrambe erano munite di pesanti paletti e stanotte puoi dormire al sicuro cimmerò disse Aram sulla soglia socchiudendo gli occhi con la barba stopposa Conan grugnì e buttò la spada sguainata sul divano i tuoi paletti e le tue sbarre sono robuste ma io dormo sempre col ferro al fianco Aram non rispose rimase immobile per un momento lisciandosi la folta barba mentre guardava l'arma minacciosa poi si ritirò in silenzio chiudendo la porta dietro di sé Conan misa a posto il paletto attraversò la stanza aprì la porta opposta e guardò fuori la stanza dava sul lato della casa fiancheggiante la strada che portava a occidente della città la porta si apriva su un cortiletto cinto da un muro le pareti che lo separavano dal resto della taverna erano alte prive di entrate ma il muro che fiancheggiava la strada era basso e non c'era serratura alla porta Conan stette per un momento sull'uscio con il bagliore del lume alle spalle guardando la strada fin dove svaniva tra le fitte palme le foglie frusciavano nella leggera brezza dietro si stendeva il deserto desolato lontano lungo la strada in direzione opposta brillavano le fioche luci e giungevano i rumori attenuati della città lì c'era solo la luce delle stelle il mormorio delle foglie di palma e al di là del basso muro la polvere della strada e le casupole deserte dei tetti piatti che si stagliavano contro le stelle basse da qualche parte oltre il palmetto prese a rullare un tamburo a Conan tornarono in mente i confusi avvertimenti dello zuagiro gli parvero un po' meno irreali di quanto gli era sembrato nella strada affollata e soleggiata pensò ancora al mistero di quelle casupole vuote perché i mendicanti le evitavano rientrò nella stanza chiuse la porta e mise il paletto la luce cominciò a tremolare Conan esaminò il lume e imprecò quando si accorse che l'olio di palma era quasi finito cominciò ad urlare per chiamare Aram ma poi si strinse nelle spalle e spense la luce soffiandoci sopra nella dolce oscurità si distese sul divano completamente vestito mentre con la mano muscolosa cercava istintivamente e impugnava l'elsa della spada guardando oziosamente le stelle incorniciate dalla finestra sbarrata con il mormorio della brezza che gli arrivava alle orecchie attraverso le palme si addormentò con la vaga consapevolezza del tamburo rimbombante fuori nel deserto il rullio sommesso di un tam-tam ricoperto di pelle suonato dai colpi ritmici e delicati di una mano nera aperta due fu il furtivo aprirsi di una porta che destò il cimbero non si svegliò come fanno gli uomini civilizzati in modo lento allucinato e stupidito si destò di colpo con la mente lucida distinguendo il suono che gli aveva interrotto il sonno restando disteso teso nell'oscurità vide lentamente aprirsi la porta che dava all'esterno da una fessura che andava allargandosi vide stagliarsi contro il cielo stellato grandi e larghe spalle ricurve e una testa deforme Conan fu scosso da un fremito in mezzo alle scapole aveva chiuso quella porta in modo sicuro come poteva aprirsi ora se non per una forza sovrannaturale come poteva un essere umano possedere una testa come quella che si stagliava ora contro le stelle tutte le storie che aveva sentito nelle tende degli zuagiri di demoni e di goblin tornarono a imperlargli la pelle di sudore appiccicaticcio il mostro scivolò silenziosamente nella stanza con un'andatura curva e un odore familiare in bestile narici di Conan ma non lo rassicurò perché le leggende zuagiri narravano che i demoni avevano quell'odore silenziosamente Conan piegò le lunghe gambe la spada sguainata era nella sua mano destra e quando colpì lo fece all'improvviso e con una furia omicida simile a quella di una tigre che sbuca con un balzo dall'oscurità neppure un demone avrebbe potuto evitare quel colpo fatale la spada si scontrò e affondò attraverso carne e ossa poi qualcosa finì pesantemente sul pavimento con un grido strozzato Conan si chinò nell'oscurità sopra quella cosa con la spada gocciolante in mano demone bestia o uomo che fosse quell'essere giaceva morto sul pavimento il cimbero intuiva la morte come lo facevano le creature selvagge guardò attraverso la porta semiaperta nel cortile illuminato dalle stelle la porta esterna era aperta ma il cortile era vuoto Conan chiuse la porta ma non mise il paletto brancolando nell'oscurità trovò il lume e lo accese c'era abbastanza olio dentro da fare luce per circa un minuto un attimo dopo era curvo sopra la figura che geceva a terra in una pozza di sangue era un nero gigantesco nudo eccettuato una pezza attorno ai fianchi in una mano stringeva ancora una mazza dall'estremità bitorzoluta i capelli laluginosi dell'uomo erano impastati con fango e ramoscelli e formavano delle specie di corna ritorte era quella conciatura barbarica che aveva fornito alla testa l'aspetto deforme intravisto alla luce delle stelle trovata la soluzione del mistero Conan sollevò le spesse labbra rosse del nero e grugnì quando vide i denti limati fino a farli diventare appuntiti a quel punto comprese l'enigma degli stranieri scomparsi dalla casa di Arambach il mistero del tamburo nero battuto al di là del palmeto e del pozzo con le ossa bruciacchiate quel pozzo dove carne insolita poteva essere arrostita sotto le stelle e dove bestie nere si rintanavano per saziare una fame orribile l'uomo sul pavimento era uno schiavo cannibale di Darfar in città venerano molti di quella genia il cannibalismo non era apertamente tollerato a Zambula ma Conan a quel punto seppe perché la gente si richiudeva in casa di notte e perché perfino i mendicanti evitavano i vicoli all'aperto e le rovine prive di porte fece una smorfia di disgusto mentre si immaginava brutali ombre nere in agguato di notte lungo le strade alla ricerca di prede umane e uomini come Arambach che aprivano loro le porte il taverniere non era un demone era qualcosa di peggio gli schiavi di Darfar erano noti ladri senza dubbio parte dei loro bottini finiva nelle mani di Arambach e lui in cambio vendeva loro carne umana Conan spense il lume camminò fino alla porta e l'aprì facendo scorrere la mano sulle decorazioni del lato esterno una di queste era mobile e azionava il paletto interno la stanza era una trappola per catturare prede umane come conigli ma questa volta invece di un coniglio aveva preso una tigre dai denti a sciabola Conan tornò all'altra porta alzò il paletto e lo spinse era impossibile muoverlo e si ricordò del paletto dell'altra porta Aram non voleva avere a che fare con le sue vittime e neanche con gli uomini con cui trattava fermando il cinturone il cimero uscì nel cortile chiudendo la porta dietro di sé non aveva intenzione di rimandare la sua dimostrazione di riconoscenza ad Arambach si domandò quanti poveri diavoli fossero stati tramortiti nel sonno poi trascinati fuori dalla stanza e lungo la strada che attraversava i palmeti verso il pozzo per essere arrostiti si fermò nel cortile il tamburo stava ancora rullando e Conan colse il riflesso di un rosso guizzo luminescente attraverso il pavimento il cannibalismo era più di un appetito perverso per gli uomini neri di Darfar era un elemento integrante del loro orrendo culto gli avvolto i neri erano già riuniti ma qualunque carne avesse riempito le loro pance quella notte non sarebbe stata la sua per raggiungere Arambach doveva scalare uno dei muri che separavano il piccolo recinto del complesso principale erano alti fatti per tenere lontani i cannibali ma Conan non era un nero originario delle paludi da ragazzo i suoi muscoli erano diventati d'acciaio sulle ripide pareti delle sue colline natie si trovava ai piedi del muro più vicino quando sotto le palme e cheggiò un grido in un attimo Conan si accucciò accanto alla porta fissando la strada il suono era giunto dalle ombre tra le casupole al di là della strada udì un gemito disperato e gorgogliante come quello che poteva venire da una vittima che tentava disperatamente di gridare con una mano nera premuta sulla bocca un drappello compatto di figure emerse dalle ombre oltre le casupole e imboccò la strada tre enormi uomini neri stavano trascinando un'esile figura che si dibatteva fra loro Conan intravide un guizzo di membra e burne che si contorceva alla luce delle stelle dopo un convulso di vincolarsi il prigioniero sfuggì alla presa di quelle mani brutali e corse via lungo la strada si trattava di una giovane donna snella nuda come il giorno in cui era nata Conan la vide chiaramente prima che abbandonasse la strada e si infilasse tra le ombre delle casupole i neri la incalzavano e nelle tenebre le figure si confusero nuovamente poco dopo risuonò insopportabile un grido di angoscia e di orrore furibondo per la mostruosità della vicenda Conan attraversò di corsa la strada né la vittima né i rapitori si resero conto della sua presenza fino a quando il leggero fruscio della polvere calpestata non li avvertì ma allora Conan era già su di loro con la furia rovinosa di un vento di collina due dei neri si voltarono per affrontarlo sollevando le mazze ma non riuscirono a stimare bene la velocità con cui il cimero si stava avvicinando uno venne abbattuto sventrato prima che potesse colpire poi Conan roteando come un gatto evitò il colpo di clava dell'altro e sferrò un colpo similante la testa del nero volò in aria il corpo acefalo fece tre passi traballanti sprizzando sangue e artigliando orribilmente l'aria con le mani annaspanti poi cadde nella polvere l'ultimo cannibale arretrò emettendo un urlo strozzato e allontanò la prigioniera con uno spintone questa inciampò e rotolò nella polvere e il nero fuggì in pre dal panico verso la città Conan lo inseguì la paura aveva messo le ali ai piedi al nero ma prima di aver raggiunto la casupola più a est sentì la morte alle spalle e muggì come un bue al macello nero cane dell'inferno Conan affondò la spada in mezzo alle spalle brune con una tale furia vendicativa che la larga lama furiuscì per metà della sua lunghezza dal torace scuro con un grido soffocato il nero incespicò e cadde in avanti Conan puntò ai piedi ed estrasse la spada mentre la sua vittima cadeva solo la brezza agitava adesso le foglie Conan scosse la testa come un leone agitava la sua criniera e ringhiò la sua brama di sangue soddisfatta però nessun'altra figura sbucò dalle ombre e davanti alle casupole la strada illuminata dalle stelle si allungava vuota il cimero si voltò nell'udire un rapido battito di piedi dietro di sé ma si trattava solo della ragazza che stava arrivando di corsa per gettarglisi tra le braccia e abbracciarlo in una stretta disperata sconvolta per il terrore dell'orribile destino a cui era appena sfuggita tranquilla ragazza va tutto bene come hanno fatto a prenderti la giovane si inghiozzò qualcosa di incomprensibile Conan dimenticò tutto ciò che riguardava Rambach mentre la osservava la luce delle stelle era di pelle bianca sebbene abbastanza scura evidentemente una rappresentante delle molte razze miste di zambula Conan si trovava in una buona posizione per osservarla e vide che era alta slanciata e snella i suoi fieri occhi si infiammarono di ammirazione quando osservò lo splendido petto le braccia e le gambe flessuose della giovane che ancora tremavano per la paura e la fatica le passò un braccio attorno alla vita snella e disse con fare rassicurante non devi più tremare ragazza sei al sicuro ora il tocco del cimaro sembrò restituire alla giovane la calma gettò all'indietro i folti ricci lucidi e lanciò un'occhiata timorosa dietro le spalle mentre si stringeva ancora di più al suo salvatore come se cercasse sicurezza nel suo tocco mi hanno catturata per la strada erano in agguato sotto un arco buio uomini neri simili a grandi scimmioni che setta abbia pietà di me li sognerò per un bel pezzo cosa ci facevi per la strada quest'ora di notte le chiese lui affascinato dal morbido contatto della pelle liscia sotto le sue dita indagatrici la ragazza si tirò indietro i capelli e lo fissò in espressiva in viso non sembrava rendersi conto delle carezze del cimaro il mio amante è stato il mio amante che mi ha costretta a fuggire per la strada è impazzito e ha cercato di uccidermi e mentre fuggivo da lui che sono stata presa da quelle bestie una bellezza come la tua può far impazzire un uomo sentenziò Conan facendo scorrere con curiosità le sue dita nei riccioli lucidi la ragazza scossa il capo come se si riprendesse da uno stordimento non tremava più e la sua voce ne era la conferma è stata la vendetta di un sacerdote Totrasmech il gran sacerdote di Anuman che mi desiderava per sé quel porco non è necessario maledirlo per quello la vecchia iena ha un gusto migliore di quanto pensassi lei ignorò quel complimento ironico si stava riprendendo molto in fretta il mio uomo è un giovane soldato turaniano per vendicarsi di me Totrasmech lo ha drogato e l'ha fatto impazzire stanotte ha preso una spada ed è venuto a uccidermi in preda alla follia però sono riuscita a sfuggirgli scappando in strada cos'è stato? Conan si era già mosso silenzioso come un'ombra l'aveva portata dietro la prima capanna rimasero immobili sotto le palme sparse in un silenzio carico di tensione mentre i borbottii sommessi che entrambi avevano udito erano diventati più forti fino a divenire voci distinguibili un gruppo di neri circa nove o dieci si stava avvicinando lungo la strada provenendo dalla città la ragazza afferrò il braccio di Conan e lui avvertì il tremore terrorizzato del suo corpo flessuoso ora potevano comprendere le voci gutturali degli uomini neri i nostri fratelli si sono già radunati al pozzo non abbiamo avuto affatto fortuna spero che loro ne abbiano avuto abbastanza anche per noi Aram ci ha promesso un uomo Aram mantiene sempre la parola data abbiamo catturato molti uomini nella sua caverna ma lo paghiamo bene io stesso gli ho dato dieci balle di seta che ho rubato al mio padrone era seta ottima per set i neri passarono oltre con i piedi piatti nudi che sollevavano polvere e le loro voci si allontanarono lungo la strada meglio per noi che quei cadaveri siano dietro le capanne se guardano nella stanza della morte di Aram ne troveranno un altro andiamocene sì sbrighiamoci il mio amore sta vagando chissà dove per le strade da solo è un'usanza diabolica ringhiò Conan mentre procedeva verso la città avanzando parallelamente alla strada ma mantenendosi dietro le casupole e i radi alberi perché gli abitanti di Zambula non fanno piazza pulita di questi cani neri sono schiavi preziosi ce ne sono così tanti che potrebbero rivoltarsi se si negasse la carne che preferiscono la gente di Zambula sa che infestano le strade di notte e tutti si preoccupano di rimanere in casa con le porte ben chiuse a chiave a meno che non succeda qualcosa di imprevisto come è capitato a me catturano tutto ciò che incontrano ma raramente prendono qualcuno che non è straniero la gente di Zambula non si cura degli stranieri che passano per la città uomini come Arambax non oserebbero fare altrettanto con un cittadino Conan sputò disgustato e un momento dopo portò la sua compagna sulla strada che stava diventando un viale con case non illuminate su entrambi i lati sgusciare tra le ombre non era congeniale alla natura del cimbero dove vuoi andare Conan chiese alla ragazza che non sembrava disapprovare il braccio di Conan attorno alla vita a casa mia per svegliare i miei servi perché cerchino il mio amante non voglio che la città i sacerdoti chiunque vengano a sapere della sua pazzia è un giovane ufficiale con un promettente futuro forse possiamo liberarlo dalla follia se lo troviamo se lo troviamo cosa ti fa pensare che io abbia intenzione di passare la notte in giro per le strade a caccia di un folle la ragazza si gettò un rapido sguardo in viso e interpretò correttamente lo scintillio negli occhi azzurri di Conan qualunque donna avrebbe capito che sarebbe stata seguita ovunque almeno per un po' però come donna dissimulò questa sua consapevolezza ti prego non ho nessun altro a cui rivolgermi per aiuto sei stato buono va bene va bene qual è il nome del giovane impazzito beh alafdal io sono zabibi una danzatrice ho ballato spesso dinnanzi a jungir khan il satrapo e alla sua amante nefertari e a tutti i nobili di zambula totras mech mi desiderava e poiché lo respingevo ha fatto di me innocente lo strumento della sua vendetta contro alafdal chiesi al sacerdote un filtro d'amore senza sospettare la perversione della sua malvagità e del suo odio mi diede una droga da mescolare al vino del mio amante e giurò che una volta bevuta alafdal mi avrebbe amato più follemente che mai e avrebbe soddisfatto ogni mio desiderio mescolai di nascosto la droga al vino del mio amore ma dopo che l'ebbe bevuta divenne pazzo furioso e allora mi è successo ciò che ti ho raccontato maledetto Totrasmec serpente bastardo afferrò convulsamente il braccio di Conan ed entrambi si fermarono bruscamente erano arrivati in un quartiere di negozi e di stalle deserto e buio per via dell'ora tarda stavano attraversando un vicolo e al suo sbocco era seduto immobile un uomo silenzioso aveva la testa china ma Conan notò una strana luce in quegli occhi misteriosi che li fissavano senza battere ciglio il cimmero rabbrividì ma non per la paura alla vista della spada stretta nella mano dell'uomo bensì a causa della strana impressione che suggerivano quella postura e quel silenzio erano chiari segni di follia Conan scostò la ragazza e sguainò la spada non ucciderlo in nome di Seth non ucciderlo sei abbastanza forte e mobilizzalo vedremo borbottò Conan stringendo la spada con la destra e serrando la sinistra in un pugno simile a un maglio si avvicinò cautamente all'uscita del vicolo ma con una orribile risata di follia il turaniano caricò quando si incontrarono Conan sferrò un colpo con la spada alzandosi sulle punte dei piedi mettendo tutta la potenza del suo corpo nel colpo le scintille lampeggiarono azzurre quando Conan parò la lama avversaria e l'istante successivo il pazzo giaceva svenuto nella polvere in seguito al colpo possente del pugno sinistro di Conan la ragazza corse avanti oh non è mica non è Conan si chinò rapidamente voltò l'uomo da un lato e le sue dita assaggiarono rapidamente il corpo non si è fatto molto male perde sangue dal naso ma chiunque lo farebbe dopo un colpetto alla mascella si riavrà tra breve e forse la sua mente sarà a posto nel frattempo gli legherò i polsi con il cinturone della spada ecco così adesso dove vuoi che lo porti aspetta la ragazza si inginocchiò accanto alla figura svenuta gli strinse le mani legate e lo controllò con attenzione poi scuotendo il capo come se fosse sorpresa e delusa si alzò si avvicinò al gigante cimaro e poggiò le sue mani affusolate sul petto possente del barbaro gli occhi scuri di lei simili a umidi gioielli neri alla luce delle stelle si fissarono sui suoi tu sì che sei un uomo aiutami totrasmec deve morire uccidilo per me e dovrei infilare il collo in una forca turaniana grugni Conan no le braccia snelle forti come acciaio d'utile circondarono il collo nerburuto del cimaro il morbido corpo di zabibi premette contro quello di Conan gli irachiani non amano totrasmec i sacerdoti di set lo temono è un mostro che domina gli uomini grazie alla paura e alla superstizione io venero set e i turaniani si inchinano di fronte a Erlich ma totrasmec offre sacrifici ad Anuman il maledetto i nobili turaniani temono la sua magia è il potere che esercita sui meticci e lo odiano perfino Jungir Khan e la sua compagna Nefertari lo temono e lo odiano se venisse ucciso nel suo tempio di notte non si getterebbero all'inseguimento dell'assassino e cosa mi dici delle sue magie bofonchiò il cimaro sei un guerriero rischiare la vita fa parte del tuo mestiere per un prezzo ci sarà un prezzo gli sussurrò lei sollevandosi sulla punta dei piedi per fissarlo negli occhi la vicinanza di quel corpo caldo infiammò il sangue nelle vene di Conan e il profumo dell'alito della ragazza gli arrivò al cervello ma quando Conan la strinse tra le braccia il suo corpo sinuoso si divincolò con un agile movimento e Zabibi disse aspetta prima aiutami in questa faccenda fai la tua offerta Conan parlò con una certa difficoltà raccogli il mio amante gli ordinò lei e il cimaro si chinò e si mise in spalla con facilità l'alta figura in quel momento si sentì come se fosse stato in grado di abbattere il palazzo di Yungir Khan con la stessa facilità la ragazza mormorò alcune parole affettuose all'uomo svenuto e non c'era ipocrisia nel suo atteggiamento lei amava sinceramente Alafdal qualunque accordo d'affari lei avesse stretto con Conan non avrebbe avuto alcuna conseguenza sulla sua relazione con il giovane ufficiale le donne sono molto più pragmatiche su questi argomenti rispetto agli uomini seguimi detto questo si affrettò lungo la via mentre il cimero avanzava con scioltezza dietro di lei per nulla ostacolato dal peso morto che trasportava mantenne un occhio vigile alla ricerca di ombre nere acquattate sotto le arcate ma non vide nulla di sospetto senza dubbio gli uomini di Darfar erano tutti riuniti attorno al pozzo la ragazza svolto quindi in una stretta strada secondaria e poi bussò con prudenza a una porta sotto alcuni archi quasi subito nel pannello superiore si aprì uno sportellino e si affacciò un viso nero Zabibi si avvicinò all'apertura bisbigliando piano i paletti della porta scricchiolarono nei loro alloggiamenti e l'uscio si aprì un nero gigantesco si stagliò contro il debole bagliore di una lampada di rame con una rapida occhiata Conan si rese conto che l'uomo non era di Darfar i suoi denti non erano limati e i capelli lanosi erano tagliati corti proveniva dal Wadai a un ordine di Zabibi Conan passò il corpo svenuto sulle braccia del nero e vide che il giovane ufficiale veniva fatto di stendere su un divano di velluto non mostrava segno di volersi riprendere il colpo che lo aveva fatto svenire avrebbe potuto abbattere un bue Zabibi si chinò sull'uomo per un istante e le sue dita si intrecciarono nervosamente poi si alzò e indicò al cimero di seguirla la porta si richiusa senza rumore i chiavistelli scattarono dietro di loro e lo sportellino che si chiudeva fece svanire il bagliore del lume alla luce delle stelle nella strada Zabibi prese la mano di Conan quella della ragazza tremava un poco non mi abbandonerai lui scosse il capo dalla folta capigliatura massiccio contro le stelle allora seguimi fino al tempio di Hanuman e che gli dèi abbiano pietà delle nostre anime si aggiravano tra le vie silenziose come fantasmi dei tempi passati avanzavano in silenzio forse la ragazza stava pensando al suo amante disteso svenuto sul divano sotto i lumi di rame oppure stava rabbrividendo per la paura di ciò che potevano trovarsi davanti nel tempio infestato dai demoni di Hanuman il barbaro stava pensando solamente alla donna che si muoveva così flessuosamente accanto a lui il profumo dei suoi capelli aulenti gli fluiva nelle narici l'aura sensuale della sua presenza gli rempiva la mente e non lasciava spazio ad alcun altro pensiero avanzando una volta udirono il tintinio di piedi dalla suola di ottone e si ritrassero tra le ombre di un arco buio mentre una pattuglia di pelishtim li superava erano in quindici marciavano in formazione compatta con le picche pronte gli uomini della retroguardia con i loro ampi scudi di bronzo appesi sulla schiena per proteggersi da una coltellata vibrata alle spalle la furtiva minaccia dei cannibali neri costituiva un pericolo anche per uomini armati non appena il clangore dei loro sandali svanì lungo la strada Conan e la ragazza emersero dal loro nascondiglio e si avviarono in fretta pochi momenti dopo videro il tozzo edificio dal tetto piatto che cercavano stagliarsi lugubro e davanti a loro il tempio di Hanuman sorgeva isolato al centro di un'ampia piazza a quell'ora silenziosa e deserta sotto le stelle un muro di marmo con un'ampia apertura direttamente di fronte al portico circondava il tempio questa apertura non aveva cancelli né barriere di sorta perché i neri non cercano là le loro prede non c'è nulla che impedisca loro di entrare nel tempio Conan percepì il tremore del corpo di Zabibi quando questo premette contro il suo essi temono Totrasmec così come tutti a Zambula persino Giunghirkan e Nefertari lo temono vieni in fretta prima che il coraggio mi sfugga come acqua fresca la paura della ragazza era evidente ma lei non indietreggiò Conan sguainò la spada e avanzò davanti a Zabibi mentre attraversarono l'arcata aperta conosceva le pericolose abitudini dei sacerdoti dell'Oriente ed era conscio che un profanatore del tempio di Hanuman poteva aspettarsi di incontrare quasi ogni sorta di incubo orribile sapeva che esisteva una buona possibilità che né lui né la ragazza lasciassero vivi il tempio ma aveva rischiato la sua vita così tante volte prima di allora da non dedicare a quel pensiero troppa attenzione entrarono in un cortile dal pavimento di marmo che luccicava biancastro alla luce delle stelle una breve rampa di ampi scalini di marmo conduceva al portico a colonne le grandi porte di bronzo erano spalancate come lo erano da secoli però all'interno nessun adoratore vi bruciava incenso di giorno uomini e donne potevano entrare timidamente nel tempio e lasciare offerte al dio scimmia sull'altare nero di notte la gente evitava il tempio di Hanuman come le lepri evitano la tana del serpente incensieri accesi illuminavano l'interno con un morbido e strano bagliore che creava un'illusione di irrealità vicino alla parete posteriore dietro l'altare di pietra nera sedeva il dio con lo sguardo eternamente rivolto verso la porta aperta attraverso la quale per secoli erano giunte le sue vittime trascinate da catene di rose una lieve una lieve scanalatura correva dalla soglia all'altare e quando i piedi di Conan la percepirono il cimero si allontano rapidamente da lì come se avesse calpestato un sarpente quel solco era stato creato dai piedi della moltitudine di coloro che erano morti urlando su quel tetro altare bestiale nella luce incerta Hanuman ghignava con la sua maschera scolpita sedeva non come avrebbe fatto uno scimmione bensì a gambe incrociate come un uomo ma il suo aspetto non era per questo meno scimmiesco l'effigie era scolpita nel marmo nero ma i suoi occhi erano rubini che ardevano rossi e malvagi come i tizzoni della fossa più profonda dell'inferno le sue mani enormi erano poggiate in grembo le palme rivolte verso l'alto le dita artigliate aperte e voraci nella grossolana enfatizzazione dei suoi attributi nella parodia del suo aspetto da satiro era riflesso l'abominevole cinismo del culto degenerato che lo deificava la ragazza si mosse attorno all'immagine dirigendosi verso la parete posteriore e quando il suo fianco snello strusciò contro un ginocchio scolpito si ritrasse e rabbrividì come se l'avesse toccata un rettile c'era uno spazio di diversi piedi tra l'ampia schiena dell'idolo e la parete di marmo con la sua decorazione di foglie dorate su ciascun lato di fianco all'idolo era incassata una porta d'avorio sotto un arco d'oro queste porte si aprono ciascuna all'estremità di un corridoio a forma di forcina disse Zabibi affrettatamente una volta entrai all'interno del tempio una volta sola rabbrividì e scosse le spalle minute di fronte a quel ricordo al contempo terrorizzante e osceno il corridoio si piega come un ferro di cavallo e ciascuna estremità finisce in una stanza le camere di totrasmec sono all'interno della curva del corridoio e si aprono su di esso però c'è una porta segreta su questa parete che dà direttamente in una stanza interna iniziò a far scorrere le mani lungo la liscia superficie dove non compariva alcuna crepa o fessura Conan rimase al suo fianco la spada in mano scrutando attentamente attorno il silenzio il vuoto del tempio con l'immaginazione che dava origine a ciò che poteva celarsi dietro a quella parete lo facevano sentire come un animale selvaggio che ha fiutato una trappola la ragazza aveva finalmente trovato una molla nascosta un'apertura quadrata si spalancò nera nella parete poi Zabibi gridò e mentre Conan balzava verso di lei vide che una enorme mano nera si era stretta attorno ai capelli della giovane la ragazza venne sollevata dal pavimento e tirata capofitto verso l'apertura Conan cercò di afferrarla ma inutilmente e sentì le dita scivolare lungo un arto nudo l'istante successivo Zabibi era svanita e la parete era ritornata liscia come prima da dietro di essa però giunse brevemente il suono vattato di una lotta un grido appena udibile e una bassa risata che fece gelare il sangue nelle vene di Conan 3 con un'imprecazione il cimero percosse la parete con un terrificante colpo del pomolo della spada e il marmo si fessurò e si scheggiò però la porta segreta non cedette e la ragione gli disse che senza dubbio doveva essere stata sprangata dall'altra parte della parete girandosi Conan con un balzo attraversò la stanza e si diresse verso una delle porte d'avorio sollevò la spada per infrangere i pannelli ma per scrupolo controllò prima la porta con la mano sinistra questa si aprì facilmente e il cimero fissò un lungo corridoio che si curvava sfocandosi nella semi-oscurità di una luce bizzarra emanata da incensieri simili a quelli del tempio un pesante chiavistello d'oro si trovava sullo stipide della porta e Conan lo toccò lievemente con la punta delle dita il debole tepore del metallo sarebbe stato individuato solamente da un uomo le cui percezioni fossero state simili a quelle di un lupo il chiavistello era stato toccato e pertanto tirato pochi secondi prima la faccenda stava assumendo sempre più l'aspetto di una trappola con l'esca avrebbe dovuto immaginare che totrasmec avrebbe saputo quando qualcuno si fosse introdotto nel tempio entrare nel corridoio avrebbe senza dubbio significato cadere in qualunque trappola il sacerdote gli avesse teso però Conan non esitò da qualche parte in quell'interno fiocamente illuminato Zabibi era prigioniera e da ciò che sapeva sui sacerdoti di Hanuman era certo che lei aveva disperatamente bisogno d'aiuto Conan si avviò lungo il corridoio con il passo furtivo della pantera pronto a colpire a destra o a sinistra alla sua sinistra si aprivano porte d'avorio sormontate da archi e lui le provò tutte erano chiuse aveva percorso circa 75 passi quando il corridoio piegò bruscamente sulla sinistra descrivendo la curva che la ragazza aveva menzionato su quella curva si apriva una porta che cedette sotto la sua mano fece capolino in un'ampia stanza quadrata poco più illuminata del corridoio le pareti erano di marmo bianco il pavimento d'avorio il soffitto d'argento cesellato vide divani di raso prezioso sgabelli d'avorio con intarsi in oro un tavolo rotondo fatto di qualche sostanza massiccia simile al metallo su uno dei divani era disteso un uomo che fissava la porta rise quando incontrò lo sguardo stupito del cimmero l'uomo era nudo eccetto un perizoma e dei sandali alti aveva la pelle marrone corti capelli neri e vivacissimi occhi neri inquadrati in un viso ampio e arrogante era imponente con arti enormi sui quali grandi muscoli guizzavano ad ogni minimo movimento le mani erano le più grandi che conan avesse mai visto la sicurezza della gigantesca forza fisica pervadeva ogni accento e azione dell'uomo perché non entri barbaro disse in tono di scherno a conan con un esagerato gesto d'invito gli occhi del cimmero iniziarono ad ardere minacciosi ma entrò cautamente nella stanza con la spada pronta chi diavolo sei ringhiò conan mi chiamo bal teor una volta molti anni fa in un'altra terra avevo un altro nome però questo è un bel nome e perché totras mech me lo diede qualunque servetta del tempio può dirtelo così sei il suo cagnolino beh maledici la tua pellaccia scura balp teor dov'è la ragazza che hai preso dal passaggio nella parete sta intrattenendo il mio signore ascolta da dietro una porta opposta a quella da cui era entrato conan risuonò il grido di una donna debole e attenuato dalla distanza all'inferno la tua anima conan mosse un passo verso la porta poi si girò con la pelle accapponata balp teor stava ridendo di lui e quella risata aveva un accenno di minaccia che fece rizzare i peli sul collo di conan e fece fluire una rossa onda di furia omicida nei suoi occhi si mosse verso balp teor la mano stretta attorno all'elsa con un rapido movimento l'uomo oscuro gli gettò contro qualcosa una sfera scintillante che luccicava nella luce bizzarra conan la schivò distinto ma miracolosamente il globo si fermò a mezz'aria a pochi passi dal suo viso non cadde sul pavimento rimase sospeso come fosse trattenuto da fili invisibili a circa cinque piedi da terra e mentre conan lo fissava stupito iniziò a ruotare con crescente velocità ruotando cresceva si espandeva e diventava nebuloso riempì la stanza avviluppò conan e nascose i mobili le pareti e il viso sorridente di balp teor conan era perso nel mezzo di un accecante turbinio bluastro che ruotava velocità impressionante venti terribili superarono urlando il cimero percuotendolo cercando di abbatterlo di trascinarlo nel vortice che roteava follemente davanti a lui con un grido strozzato conan si lanciò all'indietro barcollò poi sentì il muro solido contro la schiena a quel contatto l'illusione svanì la titanica sfera turbinante sparì come una bolla di sapone conan si alzò nella stanza dal soffitto d'argento con una foschia grigia avvilluppata attorno ai piedi e vide Balptheor cullarsi sul divano scosso da una risata silenziosa figlio di puttana conan gli si avventò contro però la foschia si alzò turbinante dal pavimento nascondendo l'enorme figura scura procedendo a tentoni in una nube roteante che lo accecava conan provò una lacerante sensazione di dislocazione e poi stanza nebbia e uomo scuro svanirono tutti si ritrovò da solo in mezzo alle alte canne di una palude mentre un bufalo lo stava caricando a testa bassa conan balzò di lato evitando le affilate corna curve come scimitarre e spinse la sua spada dietro la zampa anteriore attraversando costole e cuore e in quel momento non fu un bufalo a morire nel fango ma l'oscuro Balptheor con un'imprecazione conan gli mozzò la testa questa si alzò dal terreno e richiuse zanne bestiali attorno alla sua gola nonostante tutta la sua forza conan non riusciva a liberarsi stava soffocando poi lo spazio venne percorso da un fremito e da un ruggito dallo shock stordente di un impatto incommensurabile e conan si ritrovò nella stanza insieme a Balptheor la cui testa era di nuovo saldamente fissata sulle sue spalle e che rideva silenziosamente di lui dal divano ipnotismo mormorò conan accucciandosi e puntando saldamente le dita dei piedi sul marmo i suoi occhi baluginavano quel cane scuro stava giocando con lui lo stava prendendo in giro però quella pantomima quel giochino con la nebbia e le ombre del pensiero non potevano ferirlo non doveva far altro che balzare e colpire e lo scuro accolito non sarebbe stato altro che un cadavere mutilato sotto i suoi piedi questa volta non si sarebbe fatto ingannare da ombre illusorie ma così non fu un ringhio agghiacciante risuonò alle sue spalle e conan si voltò colpendo con una velocità impressionante la pantera accucciata pronto a balzargli addosso dal tavolo dal colore del metallo quando colpì l'apparizione questa scomparve e la sua lama si abbatté sonoramente contro la superficie dura come il diamante istantaneamente conan percepì qualcosa di anormale la lama era rimasta bloccata sul tavolo cercò di liberarla con furia selvaggia ma quella non cedette questo non era un trucco ipnotico il tavolo era un gigantesco magnete aveva afferrato l'elsa con entrambe le mani quando una voce alle sue spalle lo fece girare conan si trovò a fronteggiare l'uomo scuro che finalmente si era alzato dal divano leggermente più alto del cimero e molto più pesante balptheor torreggiava su di lui un'impressionante immagine di sviluppo muscolare le sue braccia imponenti erano innaturalmente lunghe e le grandi mani aperte si aprivano e chiudevano vibrando convulsamente conan lasciò la presa sull'elsa della spada imprigionata e rimase in silenzio osservando il suo nemico attraverso le palpebre ridotte ad una fessura la tua testa cimero te la strapperò a mani nude torcendola dalle spalle così come si fa con quella di un pollo così i figli di cosala offrono il sacrificio a yajur barbaro ti trovi di fronte a uno strangolatore di yotapong io venni scelto dai sacerdoti di yajur quando ero in fasce e per tutta la mia infanzia giovinezza e adolescenza venni addestrato nell'arte di uccidere a mani nude perché solo in questo modo si compiono i sacrifici gli yajur rama il sangue e noi non ne sprechiamo una goccia delle nostre vittime quando ero bambino mi diedero neonati con cui allenarmi da ragazzo strangolai giovani donne da adolescente donne vecchi e ragazzi fino a quando non raggiunsi la piena maturità come uomo e non mi venne dato un adulto robusto da uccidere sull'altare di yotapong per anni offri sacrifici a yajur con queste dita ho spezzato centinaia di colli perché io fuggì da yotapong per diventare il servitore di totras mech non ti deve interessare tra un momento avrai superato la curiosità i sacerdoti di cosala gli strangolatori di yajur sono forti oltre l'immaginazione umana e io ero più forte di qualunque altro con le mie mani barbaro ti spezzerò il collo e come l'attacco di due cobra le grandi mani si serrarono attorno alla gola di conan il cimaro non fece alcun tentativo di scansarle o di deviarle ma le sue mani sfrecciarono contro il collo taurino del cosalano gli occhi neri di balptheor si allargarono quando sentì lo spesso fascio di muscoli che proteggevano la gola del barbaro con un ringhio esercitò la sua forza inumana e i fasci di muscoli e di tendini si gonfiarono lungo le braccia massicce poi dalle sue labbra eruppe un gemito strozzato quando le dita di conan si serrarono sulla sua gola per un istante entrambi rimasero immobili come statue i volti simili a maschere per lo sforzo le vene che incominciavano risaltare purpure sulle tempie le sottili labbra di conan scoprirono i denti evidenziando un ringhio feroce gli occhi di balptheor erano spalancati in essi stava crescendo una terribile sorpresa e il lampo della paura entrambi gli uomini rimasero immobili come statue tranne che per il gonfiarsi dei muscoli sulle braccia rigide e le gambe puntate sul pavimento ma in quel momento si stavano dando battaglia forse oltre la normale concezione umana forze che avrebbero potuto sradicare alberi e fracassare crani di torelli uno sbuffo similò improvvisamente dai denti aperti di balptheor il suo viso divenne sempre più paunazzo e la paura gli rempì gli occhi i muscoli sembravano dovergli esplodere dalle braccia e dalle spalle eppure i muscoli dello spesso collo del cimaro non cedevano sembravano una massa di cavi di ferro intrecciati sotto quelle dita disperate invece la carne di balptheor stava cedendo sotto la morsa d'acciaio del cimaro che affondava sempre più in profondità nei muscoli del collo schiacciandoli contro la giugulare e la trachea l'immobilità statuaria del gruppo cedette il passo a un'improvvisa e frenetica sequenza di azioni quando il cosalano prese a torcersi e a sollevarsi cercando di arretrare lasciò andare la presa sul collo di Conan e gli afferrò i polsi cercando di staccare quelle dita inesorabili con una spinta improvvisa Conan lo fece arretrare fino a quando la parte bassa della schiena dell'uomo scuro non batte contro il tavolo poi Conan lo spinse ancora di più all'indietro sempre di più fino a quando la spina dorsale del suo avversario non fu sul punto di spezzarsi la bassa risata di Conan era senza pietà come il sibilo dell'acciaio sciocco sapevo che non avevi mai incontrato un uomo dell'occidente prima d'ora ti sei vantato di essere forte perché sei capace di torcere il collo alla gente normale e civilizzata a quei poveri debolucci dai muscoli come corde marce al diavolo spezza il collo di un toro selvaggio della cimmeria prima di definirti forte io lo feci prima di diventare adulto così e con una torsione selvaggia piegò la testa di Balptheor fino a quando il volto spettrale non superò la spalla sinistra e le vertebre si spezzarono come rami marci Conan gettò il corpo flaccido sul pavimento poi si girò nuovamente verso la spada e afferrò l'elsa con entrambe le mani puntando i piedi contro il pavimento dalle ferite sul collo inflittegli dalle unghie di Balptheor il sangue gli gocciolava sul petto i capelli neri erano bagnati il sudore gli colava sul volto e ansimava nonostante le parole di derisione per la forza di Balptheor Conan aveva trovato quasi un suo pari nell'inumano cosalano però senza fermarsi per riprendere fiato esercitò tutta la sua forza in uno sforzo possente che liberò la spada dal magnete dove era rimasta attaccata l'istante successivo aveva spalancato la porta da cui era risuonato il grido e si trovò a fissare un lungo corridoio di ritto punteggiato da porte d'avorio l'altra estremità era mascherata da un ricco tendone di velluto e da dietro di esso giungevano le note diaboliche di una musica che mai Conan aveva udito neppure negli incubi e che gli fece rizzare i capelli sulla nuca mescolato a quei suoni si percepiva l'ansimante e isterico piagnucolio di una donna stringendo saldamente la spada il cimero scivolò lungo il corridoio 4 quando Zabibi venne trascinata attraverso l'apertura nella parete dietro l'idolo il suo primo pensiero confuso e sconnesso fu che fosse giunta alla sua ultima ora chiuse istintivamente gli occhi e attese il colpo fatale invece si sentì gettare poco cerimoniosamente su un liscio pavimento di marmo che le procurò dei lividi sulle gambe e sui fianchi aprendo gli occhi si guardò timorosamente attorno proprio mentre un colpo smorzato risuonava dall'altra parte del muro vide accanto a sé un gigante dalla pelle marrone che indossava solo un perizoma e dall'altra parte della stanza in cui si trovava un uomo seduto su un divano che dava alla schiena un ricco tendone di velluto un grasso uomo corpulento dalle mani bianche e gli occhi da rettile e la pelle di zabibi rabbrividì perché quell'uomo era totrasmec il sacerdote di hanuman che per anni aveva tessuto la sua vicida tela di potere su tutta la città di zambula il barbaro cerca di sfondare il muro disse sardonicamente totrasmec però i chiavistelli terranno la ragazza vide che un pesante chiavistello dorato era stato fatto scorrere lungo la porta nascosta chiaramente visibile da quel lato della parete il chiavistello e i suoi alloggiamenti avrebbero resistito alla carica di un elefante vai ad aprire una delle porte per lui Balptheor uccidilo nella stanza quadrata all'altra estremità del corridoio il cosalano salutò con un inchino e uscì da un'altra porta laterale della stanza zabibi si alzò fissando timorosa il sacerdote i cui occhi corsero avidamente lungo lo splendido corpo della ragazza a ciò ella rimase indifferente una danzatrice di zambula era abbezza alla nudità però la crudeltà di quegli occhi le fece tremare le gambe ecco di nuovamente nel mio rifugio bellezza è un onore inatteso mi era sembrato che avessi apprezzato così poco la tua precedente visita da non osare sperare che la ripetessi eppure ho fatto tutto quanto era il mio potere per farti avere un'esperienza interessante per una danzatrice zambulana arrossire sarebbe stato impossibile ma un accesso di ira si mescolò alla paura negli occhi dilatati di zabibi grasso maiale lo sai che non sono venuta qui per amor tuo no sei venuta come una sciocca sgattaiolando di notte con uno stupido barbaro per tagliarmi la gola perché vuoi attentare alla mia vita sai benissimo perché strillò lei conoscendo la futilità di quella menzogna stai pensando al tuo amante il fatto che tu sia qui a cercare di uccidermi dimostra che ha ingerito la droga che ti diedi beh non me l'avevi forse chiesto e non ti mandai ciò che avevi chiesto per l'amore che io provo per te ti chiesi una droga che doveva farlo dormire senza danno per alcune ore e tu tu hai mandato il tuo servo con una pozione che l'ha fatto impazzire sono stata una stupida a fidarmi di te avrei dovuto sapere che le tue dichiarazioni di amicizia erano false e mascheravano il tuo odio e il tuo disprezzo disse lei amaramente perché volevi che il tuo amante dormisse così da potergli rubare l'ultima cosa che non ti avrebbe mai dato l'anello con il gioiello che gli uomini chiamano la stella di Corala l'anello sottratto alla regina di Ofir che pagherebbe una montagna d'oro per la sua restituzione ma non te l'avrebbe mai dato di sua spontanea volontà perché sapeva che in esso risiede una magia che quando è giustamente controllata tiene prigionieri i cuori di chiunque appartenga al sesso opposto tu volevi rubargliela temendo che i suoi maghi scoprissero la chiave di quell'incantesimo e lui ti dimenticasse per andare alla conquista delle regine del mondo l'avresti rivenduta alla regina di Ofir che ne conosce il potere e l'avrebbe usato per imprigionare me come fece prima che venisse rubato e perché tu lo vuoi? gli domandò lei Kupa ah io conosco i suoi poteri avrebbe aumentato quelli della mia arte beh adesso ce l'hai la stella di Corala no ti sbagli perché dovrei mentire lui l'aveva al dito quando mi fece fuggire per la strada e non l'aveva più quando l'ho ritrovato il tuo servo deve aver sorvegliato la casa e deve averglielo preso dopo che sono fuggita al diavolo voglio che il mio amore ritorni sano di mente e normale tu hai l'anello ci hai puniti entrambi perché perché non gli restituisci la ragione puoi farlo potrei la rassicurò il sacerdote godendo visibilmente dell'angoscia della giovane così dicendo estrasse una fiala dalle pieghe dell'abito questa contiene il succo del loto dorato se il tuo amante lo berrà ritornerà sano di mente sì io sarò pietoso entrambi mi avete contrastato ed eriso non una ma molte volte tutti sei sempre opposta ai miei desideri però sarò pietoso vieni a prendere la fiala dalla mia mano Zabibi si avvicinò a Totrasmec tremando per il pensiero di impadronirsene ma temendo anche che non fosse altro che uno scherzo crudele avanzò timidamente la mano protesa ma il sacerdote rise crudelmente e arretrò lontano mentre le labbra della ragazza si aprivano per maledirlo una sensazione istintiva le fece sollevare lo sguardo dal soffitto dorato caddero quattro vasi color giada Zabibi si spostò e i vasi non la colpirono si rupperò però sul pavimento attorno a lei formando i quattro angoli di un quadrato e Zabibi urlò e urlò infatti da ciascun vaso frantumato si levò la testa di un cobra e uno tentò di morderle la gamba nuda il movimento convulso che Zabibi compì per evitare l'attacco la portò vicino a un altro cobra e nuovamente la ragazza dovette muoversi come una setta per evitare il guizzo dell'orribile testa era finita in una trappola terrificante tutti e quattro i serpenti stavano ondeggiando per colpire i piedi le caviglie i polpacci le ginocchia le cosce i fianchi ogni porzione del corpo voluttuoso che capitava loro a tiro e Zabibi non poteva superarli e salvarsi poteva solo ruotare balzare di lato e contorcere il corpo per evitare i colpi e ogni volta che si muoveva per scansare un serpente il movimento la portava vicino ad un altro così da costringerla a spostarsi con la velocità della luce poteva muoversi solo di pochissimo in ogni direzione e quelle terribili teste piatte la minacciavano di continuo solo una danzatrice di zambula avrebbe potuto sopravvivere in quel macabro quadrato Zabibi divenne uno stupefacente turbinio di movimento le teste la mancavano di pochissimo ma la mancavano perché lei opponeva i suoi piedi guizzanti le gambe velocissime e un occhio perfetto contro la velocità cecante dei demoni scagliosi che il suo nemico aveva evocato dal nulla da qualche parte si levò una musica stridente e lamentosa che si mescolò al sibilo dei serpenti come un malvagio vento notturno che prende a soffiare attraverso le orbite vuote di un cranio persino alla velocità dettata dalla disperazione Zabibi comprese che il guizzare dei serpenti non era più dovuto al caso essi obbedivano al macabro suono di quella musica sinistra attaccavano con una sintonia orribile e necessariamente lei adeguò l'ondeggiare il vibrare e il piroettare del suo corpo al loro ritmo i frenetici movimenti della ballerina si fusero nei passi di una danza al cui confronto il ballo più osceno di Zamora sarebbe sembrato normale e casto in preda alla vergogna e all'orrore Zabibi udì l'odiosa risata del suo impietoso tormentatore la danza dei cobra mia diletta così le fanciulle danzava in onore di Anuman secoli fa ma mai con tanta bellezza e agilità danza ragazza danza per quanto tempo potrai evitare le zanne del popolo velenoso minuti ore ma alla fine però ti sfinirai il tuo piede rapido e sicuro inciamperà le tue gambe cederanno i tuoi fianchi ruoteranno più lentamente e allora i denti affonderanno profondamente nella tua pelle d'avorio dietro al sacerdote il tendone si agitò come se fosse stato colpito da un alito di vento e Totras me curlò i suoi occhi si dilatarono e le sue mani si strinsero convulsamente attorno alla spanna di lucente acciaio che era sbucata improvvisamente dal suo petto la musica si interruppe di colpo la ragazza barcollò stordita urlando nella terribile attesa delle zanne guizzanti e poi solo quattro innocui sbuffi di fumo si levarono dal pavimento attorno a lei mentre Totrasmec cadeva capofitto sul divano Conan uscì da dietro il tendone pulendo l'ampia lama spiando attraverso i tendaggi aveva visto la ragazza danzare disperatamente tra quattro spirali di fumo ondeggiante ma il cimbero aveva intuito che per la ragazza il loro aspetto doveva essere assai diverso sapeva di aver ucciso Totrasmec Zabibi si accasciò sul pavimento ansimando ma mentre Conan le si avvicinava la ragazza si alzò barcollante sebbene le gambe le tremassero per lo sforzo la fiala la fiala Totrasmec la stringeva ancora nella mano irrigidita brutalmente Zabibi gliela strappò dalle dita serrate e poi iniziò freneticamente a frugare tra gli abiti del morto cosa diavolo stai cercando domandò Conan un anello l'ha rubato ad Al-Afdal deve averlo fatto mentre il mio amante vagava impazzito per le strade per i diavoli di Seth si era convinta che l'anello non si trovava sulla persona di Totrasmec incominciò allora a guardarsi in giro per la stanza lacerando le imbottiture dei divani e gli arazzi e anche rovesciando vasi si fermò e scostò un ricciolo bagnato che le cadeva sugli occhi mi sono dimenticata di Balptheor è all'inferno con il collo spezzato la rassicurò Conan Zabibi manifestò una gioia vendicativa a quella notizia ma l'istante successivo imprecò coloritamente non possiamo rimanere qui non manca molto all'alba è probabile che i sacerdoti minori visitino il tempio a qualunque ora della notte e se ci scoprono qui con il suo cadavere la folla ci farà a pezzi i turaniani non potrebbero salvarci sollevò il chiavistello della porta segreta e alcuni istanti dopo erano entrambi per la strada allontanandosi frettolosamente dalla piazza silenziosa dove incombeva l'antichissimo tempio di Hanuman in una via tortuosa a poca distanza Conan si fermò e bloccò la sua compagna con una ruda mano sulla sua spalla nuda non dimenticarti che era stato pattuito un prezzo la ragazza si liberò con un guizzo non l'ho scordato però prima dobbiamo andare da da alafdal pochi minuti dopo lo schiavo nero li faceva entrare attraverso la porta con lo spioncino il giovane turaniano giaceva sul divano le braccia e le gambe legate con pesanti corde di velluto aveva gli occhi aperti ma erano quelli di un cane rabbioso e la schiuma sulle sue labbra era abbondante Zabibi rabbrividì aprigli le mascelle con la forza ordinò e le dita ferree di Conan compirono l'opera Zabibi vuotò il contenuto della fiala nella gola del pazzo l'effetto fu quasi magico istantaneamente l'uomo si acquietò lo sguardo non fu più vitreo fissò la ragazza con aria perplessa ma riconoscendola e con lo sguardo intelligente ricadde in un sonno normale quando si sveglierà sarà completamente rinsavito mormorò lei rivolgendo un cenno allo schiavo silenzioso con un profondo inchino il nero le diede una piccola borsa di cuoio e le avvolse sulle spalle un mantello di seta il modo di fare di zabibi era subdolamente mutato quando ordinò a conan di seguirla fuori dalla stanza sotto un arco che si apriva sulla strada si girò verso il cimbero ergendosi con una nuova regalità adesso devo dirti la verità non sono zabibi ma nefertari e lui non è alafdal un povero capitano delle guardie e i jungirkan satrapo di zambula conan non fece alcun commento il suo volto scuro e coperto di cicatrici rimase immobile ti ho mentito perché non osavo dire la verità a nessuno eravamo soli quando jungirkan impazzì non lo sapeva nessuno tranne me se si fosse saputo che il satrapo di zambula era impazzito ci sarebbe stata immediatamente una rivolta proprio come totrasmec aveva ordito dato che voleva la nostra caduta adesso capisci perché la ricompensa in cui speravi è impossibile la donna del satrapo non è non può essere per te però non te ne andrai senza ricompensa qui c'è un sacco d'oro la donna diede a conan il sacchetto che aveva ricevuto dallo schiavo vai adesso e quando il sole sorgerà vieni a palazzo farò in modo che jungirkan ti nomini capitano della sua guardia però tu prenderai gli ordini da me segretamente il tuo primo compito sarà di marciare con un drappello fino al tempio di hanuman ufficialmente cercando indizi relativi agli assassini del sacerdote in realtà cercherai la stella di corala deve essere nascosta là da qualche parte quando la troverai portamela adesso hai il mio permesso di andare conan annui ancora silenzioso e si allontanò la ragazza osservando l'ondeggiare delle ampie spalle del cimbero si stupì di notare che nulla nel portamento dell'uomo dava a intendere che egli fosse in qualche modo deluso o turbato dopo aver girato un angolo conan si guardò alle spalle e poi cambiò direzione allungando il passo pochi momenti dopo si trovava nel quartiere della città che ospitava il mercato dei cavalli là bussò violentemente a una porta finché da una finestra al piano di sopra si affacciò una testa barbuta che domandò la ragione di tanto fracasso un cavallo il destriero più veloce che avete non apro la bottega a quest'ora di notte borbottò il commerciante di cavalli conan fece tintinnare le monete farabutto figlio di un cane non vedi che sono un bianco e solo vieni giù prima che sfondi la porta poco dopo con uno stallone baio conan stava cavalcando verso la casa di Arambach lasciò la strada e si infilò nel vicoletto che correva tra il complesso della taverna e il giardino dalle palme da datteri ma non si fermò al cancello cavalcò fino all'angolo nord orientale del muro poi svoltò e proseguì lungo la parete settentrionale fermandosi a pochi passi dall'angolo di nord ovest vicino al muro non cresceva alcun albero ma c'erano alcuni bassi cespugli legò il cavallo a uno di quelli ed era sul punto di salire nuovamente in sella quando udì un mormorio di voci oltre l'angolo delle mura levato il piede dalla staffa si avvicinò furtivamente all'angolo e fece capolino da dietro di esso tre uomini stavano percorrendo la strada verso il palmeto e dalla loro andatura furtiva capì che si trattava di neri si fermarono quando lui li chiamò a voce bassa e fecero gruppo mentre Conan avanzava con passo sicuro verso di loro la spada in mano i loro occhi brillavano bianchi alla luce delle stelle la loro brama brutale scintillava sui volti d'evano ma sapevano che i loro tre randelli non potevano prevalere contro la spada e anche Conan lo sapeva dove state andando chiese con voce sprezzante a dire ai nostri fratelli di spegnere il fuoco nel pozzo oltre il boschetto Arambach ci aveva promesso un uomo ma ci ha mentito abbiamo trovato uno dei nostri fratelli morto nella camera trappola questa notte patiremo la fame ah non credo Arambach vi darà un uomo vedete quella porta indicò un piccolo portale con rinforzi di ferro incassato a metà del muro occidentale aspettate là Arambach vi darà un uomo arretrando cautamente fino a quando non fu fuori portata da un colpo improvviso di randello Conan si girò e sgattaiolò oltre l'angolo di nord ovest raggiunto il suo cavallo si fermò per accertarsi che i neri non l'avessero seguito furtivamente poi montò in sella e vi salì in piedi calmando il cavallo nervoso con una parola allungato si afferrò la cornice del muro e si so in cima da lì studiò il terreno per un istante la taverna sorgeva nell'angolo sud occidentale del recinto e lo spazio rimanente era occupato da boschetti e giardini non vide nessuno in giro la taverna era buia e silenziosa e Conan capì che tutte le porte e le finestre erano sbarrate e chiuse Conan sapeva che Aran Baksch dormiva in una stanza che si apriva su un sentiero bordato di cipressi che conduceva alla porta situata nella parete occidentale come un'ombra Conan scivolò tra gli alberi e pochi momenti dopo bussò leggermente alla porta della stanza cosa c'è? chiese dall'interno una voce roca addormentata Aran Baksch i neri stanno scalando le mura quasi istantaneamente la porta si aprì inquadrando il taverniere che indossava solo una camicia e in mano stringeva un pugnale allungò il collo per fissare il cimmero in volto che storia è questa? tu! le vendicative dita di Conan soffocarono il grido nella gola di Aran Baksch caddero insieme sul pavimento e Conan strappò il pugnale dalla mano del suo nemico la lama scintillò alla luce delle stelle e il sangue schizzò Aran Baksch emise dei suoni orribili gemendo e balbettando con la bocca piena di sangue Conan lo mise in piedi il pugnale colpì nuovamente e la maggior parte della barbariccia cadde sul pavimento stringendo ancora la gola del prigioniero perché un uomo è in grado di urlare incoerentemente anche con la lingua mozzata Conan lo trascinò fuori dalla stanza buia e lungo il sentiero ombreggiato dai cipressi fino alla porta rinforzata in ferro nel muro esterno con una mano sollevò il chiavistello e aprì la porta rivelando le tre figure scure che attendevano come avvolto i neri all'esterno Conan gettò il taverniere tra le loro braccia ansiose un grido orribile semissoffocato dal sangue e ruppe dalla gola dello zambulano ma dalla taverna silenziosa non giunse alcuna risposta la gente di quel luogo era abituata alle grida provenienti da oltre le mura Arambach lottò come un selvaggio gli occhi fuori dalle orbite rivolte disperatamente verso il viso del cimero là però non trovò alcuna pietà Conan stava pensando agli innumerevoli disgraziati che dovevano la loro fine orribile all'avidità di quell'uomo i tre neri soddisfatti trascinarono lo zambulano lungo la strada prendendo in giro i balbetti terrorizzati dell'uomo come avrebbero potuto riconoscere Arambach in quella figura seminuda lorda di sangue con la barba tagliata grottescamente e dal balbettio inintelleggibile i suoni della lotta giunsero alle orecchie di Conan ritto accanto al cancello anche dopo che il gruppo fu svanito tra le palme chiudendo la porta dietro di sé Conan ritornò al cavallo salì in sella e si diresse verso ovest verso il deserto aperto facendo un ampio giro per evitare la sinistra fascia di palmeti mentre cavalcava estrasse dalla cintura un anello nel quale scintillava una gemma che catturava la luce delle stelle in un'iridescenza luccicante lo sollevò per ammirarlo rigirandolo da una parte e dall'altra il sacchetto gonfio di monete d'oro tintinnava gentilmente appeso alla sella come una promessa delle maggiori ricchezze che sarebbero venute mi chiedo cosa direbbe se sapesse che l'avevo riconosciuta come nefertari conoscevo anche la stella di corala chissà che scena se mai immaginerà che l'ho sfilata dalle dita del can mentre lo stavo legando con il cinturone della spada però non mi prenderanno mai con il vantaggio che ho rivolse un'occhiata ai palmeti in ombra tra i quali stava crescendo un bagliore rossastro una cantilena si levò nella notte vibrando con selvagge esultanza e un altro uomo si mescolò ad esso un folle urlo inarticolato un balbettio terrorizzato nel quale nessuna parola era distinguibile lo schiamazzo seguì Conan mentre cavalcava verso ovest sotto le stelle che incominciavano a impallidire fine la locanda della tormenta è stata lieta di presentare Conan ombre a zambula grazie per l'ascolto grazie per l'ascolto grazie per l'ascolto